Roberto si chinò e i baffi del vecchio li fecero solletico l'orecchio. Allora il mago gli sussurrò un segreto. Devi sapere che esistono quei banalissimi numeri che si possono dividere e poi gli altri dove invece non si può. Io preferisco questi. Sai perché? Perché sono dei principi. I matematici ci si rompono la testa da più di mille anni. Sono numeri meravigliosi. L'11 ad esempio o il 13 ma anche il 17. Roberto era un po' stupito perché il mago aveva un'aria estasiata come se stesse assaporando un manicaretto. E adesso mio caro dimmi quali sono i primi numeri principi. Lo zero rispose Roberto per farlo arrabbiare. Lo zero non vale gridò il vecchio facendo di nuovo vorticare il suo bastone. Allora l'uno non vale neanche l'uno quante volte devo dirtelo? Ok disse Roberto non ti agitare allora il 2 e anche il 3 almeno credo. Il 4 no ci abbiamo già provato. Il 5 certo il 5 non si può dividere. Vabbè poi gli altri. Come sarebbe a dire poi gli altri? Il vecchio si era già calmato anzi si fregava le mani e quando lo faceva si poteva essere certi che aveva in mente uno dei suoi trucchi. E questo è il bello dei numeri principi disse. Nessuno sa in anticipo in base a quale ordine compariranno. A parte il sottoscritto naturalmente. Ma io non lo dico a nessuno. Neanche a me? A nessuno mai? La cosa divertente è proprio questa. Uh che è un numero. Non rivela se è un principio o no. Nessuno può dirlo in anticipo. bisogna fare la prova. E come? Adesso ti faccio vedere. Con il bastone iniziò a scarabocchiare tutti i numeri da 2 a 50 sul muro della grotta. Questo fu il risultato del suo lavoro. Ecco mio caro adesso il bastone prendilo tu. Quando scopri che un numero non è principe devi toccarlo con la punta e scompare. Manca l'1 si lamentò lo 0 e anche lo 0 si lamentò Roberto. Quante volte devo dirtelo? L'1 e lo 0 non sono numeri come gli altri? Non sono né principi né non principi. Ti ricordi cosa hai sognato all'inizio? Che tutti gli altri numeri derivano dall'1 e dallo 0? Se lo dici tu disse Roberto. Per prima cosa cancellò tutti i numeri pari perché quelli si possono facilmente dividere per due. Meno il 2 lo viso il vecchio. Il 2 è principe ricordatelo. Roberto prese il bastone iniziò. In un batter d'occhio il muro numerato divenne così. E adesso continuo con il 3. Il 3 è principe. E tutti i numeri che seguono nella tabellina del 3 non sono principi perché si possono dividere per 3. 6, 9, 12 eccetera. Roberto cancellò la tabellina del 3 e il risultato fu. Poi la sequenza del 4. Anzi no, dei numeri che si possono dividere per 4 possiamo fregarcene. li cancello perché il 4 non è principe ma 2 per 2. Il 5 invece sì. Che è principe. Il 10 naturalmente no e poi è già scomparso perché è 2 per 5. E puoi cancellare anche tutti gli altri che finiscono con 5 disse il vecchio. Certo. Ormai Roberto ci provava a gusto. Il 6 ne ha anche a pensarci disse perché è 2 per 3. Il 7 invece sì. Il 7 è principe. Ottimo esclamò il mago. Anche l'11. E quali restano? Beh, caro lettore, cara lettrice, questo devi scoprirlo tu. Prendi un bel pennarello grosso. continua fino a quando restano solo numeri principi. Detto fra noi. Sono esattamente 15. Non uno di più, non uno di meno. Bravissimo Roberto. Il mago nei numeri si accese la pipa e si mise a ridacchiare. Che c'è da ridere? Disse Roberto. Beh, fino a 50 non è molto difficile, disse il mago. Si era seduto a gambe incrociate e rideva malignamente. Ma prova a pensare a un numero come 10.019. Oppure 141 mila miliardi, 421 miliardi, 356 milioni, 237.307. È un numero principe o no? Se sapessi quanti matematici si sono rotti la testa per scoprirlo, questo è un osso duro anche per i più grandi maghi dei numeri. Ma sei appena detto che sapevi come andava avanti anche se non volevi dirlo. Beh, sì, insomma, esagerato un po'. Almeno lo ammetti, disse Roberto. A starti a sentire ogni tanto sembra di parlare col papa e non col mago dei numeri. Le anime più semplici ci provano con computer giganteschi e calcolano per mesi e mesi senza smettere e alla fine il computer va in tilt. E poi devo confessarti che il trucco di cancellare prima la sequenza del 2, poi quella del 3, del 5 e così via. Non l'ho inventato io. Una storia vecchia. Non che sia male, no, però se ti trovi davanti a numeri molto grandi ci metti dei secoli. Ormai abbiamo scogitato dei metodi molto raffinati, ma per quanto possono essere perfezionati, con numeri principi siamo ancora le prime armi. E questo è diabolico. E il diabolico è divertente, non trovi? Il mago dei numeri sembrava proprio allegro e faceva vorticare il suo bastone. D'accordo, disse Roberto. Ma perché starci tanto dietro? Non fare domande stupide. Il bello è proprio che nel regno dei numeri non c'è quell'odore di chiuso e di muffa che c'è nella matematica del tuo professor mandibola. Lui ha le sue giambelle. Dovresti essere contento se ti svelo questi segreti. Ad esempio questo. Pensa a un numero superiore a uno, uno qualunque, poi raddoppialo. 222, disse Roberto. E 444. Fra ciascuno di questi numeri e il suo doppio c'è sempre, e dico sempre, almeno un numero primo. Sei sicuro? Il 307, disse il vecchio. Ma funziona anche con numeri grandissimi. Come fai a saperlo? Aspetta, aspetta, c'è di meglio, disse il vecchio stiracchiandosi. Ormai non lo fermava più nessuno. Prendi un numero pari, non importa quale. Basta che sia superiore a 2. Ti farò vedere che la somma di due numeri principi. 48, esclamò Roberto. 31 più 17, disse il vecchio, senza pensarci molto. 34, gridò Roberto. 29 più 5, replicò il vecchio, senza nemmeno levarsi la pipa di bocca. Funziona sempre, chiese Roberto stupito. Perché? Piacerebbe saperlo anche a me, disse il vecchio, corrugando la fronte e osservando i riccioli di fumo che soffiava in aria. Quasi tutti i maghi dei numeri, nonché conosco, hanno cercato di scoprirlo. Funziona sempre, senza eccezioni. Ma nessuno sa perché. Nessuno è riuscito a dimostrare che così. Questa poi, pensò Roberto, e gli venne da ridere. Incredibile, disse, davvero incredibile. In fondo gli piaceva stare a sentire queste storie. Come sempre, quando non sapeva andare avanti, il mago aveva un'espressione abbastanza stizzita. Ma poi si era rimesso a fumacchiare e rideva anche lui. Ah ah! Sei meno stupido di quel che sembra, mio caro.